Sostenibilità ambientale, clima e cultura sono i temi al centro del Festival Motumundi, presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Palcoscenico principale del Festival, in programma dal 15 al 18 ottobre, patrocinato dalla Regione, sarà a Cavriglia, in provincia di Arezzo, con eventi anche a Firenze, Siena e Pisa. Tre giorni di dibattiti, conferenze, workshop e laboratorio organizzati nel rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid. In quei giorni Cavriglia diventa capitale dell'economia circolare, della sostenibilità dello sviluppo, della possibilità di avere progetti brillanti anche verso il Recovery Fund, ma diventa veramente un centro di cui la Toscana si sente orgogliosa perché muove una serie di personalità che possono dare indicazioni, sogni, suggestioni, ma anche concreti interventi come è uso per questa realtà. Non un caso che il cuore toscano del dibattito sulla sostenibilità sia a Cavriglia, comune al centro da tempo di uno dei più grandi progetti di riqualificazione ambientale. Noi vogliamo mettere l'accento sulla necessità di un cambio culturale in ambito ambientale. Lo vogliamo fare in maniera rapida, a Cavriglia, perché Cavriglia è un territorio che ha sofferto tantissimo da un punto di vista ambientale, perché da noi c'erano le miniere di Lignite. Per oltre 150 anni si è coltivato questo carbone giovane che aveva 4 milioni di anni, devastando un territorio, dando tanta ricchezza, benessere, però lasciando una ferita enorme aperta sul territorio. Il Festival Motomundi a respiro internazionale, con eventi sia in italiano che in inglese, in presenza e su piattaforme online, su temi come istruzione, scienza, politica e imprenditoria legate al clima e ancora inquinamento, riciclo, acqua, plastica e energia, su cui si confronteranno i rappresentanti della comunità scientifica e gli studenti. Poi ci sono gli elementi che vedono nuovamente protagonisti giovani con le conferenze che saranno declinate anche in questo ambito rispetto alla presenza di docenti universitari che andranno a toccare gli ambiti dell'artitettura, gli ambiti dell'arte e come si capirà la matematica può essere utilizzata a difesa di quella che è anche l'erosione della materia prima, la pietra, che sono senz'altro elementi su cui il patrimonio artistico italiano deve andare a confrontarsi con l'ambito internazionale. Nell'ambito del Festival Motomundi è stata istituita anche la scuola di sensibilizzazione ambientale Motomundian Academy, ci saranno eventi in teatro e anche una mostra con opere d'arte realizzate con materiali di riciclo.